E' ancora la fine della storia? No, la cosa è più importante, il salvataggio! Ma come facciamo fare il salvataggio? Eh, come facciamo fare il salvataggio? E' impossibile, come si va a tirare le corde alla scala calabria dove dà la torre? E poi non abbiamo neanche la corda? Eh no, Calabria, la corda ce l'abbiamo, ed è una corda bellissima, fortissima, antichissima, che servirà per il salvataggio e poi abbiamo un testo meraviglioso di Francesco Rambaldi che voi avete imparato a memoria. Allora? E' la vita, la fortuna, la fortuna e la torre! Faci turno, esame l'altezza della torre, calcola con l'occhio la distanza e decide di salvare quelle vittime mesurate. Corre in traccia di un sacerdote! Trostrato, accusa le sue colpe e tiene perdone! Un'anima tranquilla ritorna al ponte e annuncia di loro salvare quei miseri! Annuncia che il di solo sarà risposto al periglio di morto! Adatta a voce, incoragisce la tesolata Taliglia! Invite numerosi e stante ad assisterlo! Tutti gli occhi sono rivolti a minarlo! Tutte le orecchie tese ad udirlo! E le braccia sono mosse a obbedirlo! Tosto, Bartolomeo! Sceglie quelli che a lui sembrano più capaci! Tu, 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 tu! Ordina che vengano portate! Funisca le mani, carrucole e fagli e sacchi! E in un istante ebbi là il tutto! Con il mezzo di una tranciata pietra fa giungere una corda e entra la torre! Con l'aiuto di due forti carrucole e le sacchi! Cosa c'è lui? Adesso è tutto lui! Dai, vai avanti! Istruisce le donne come devono assicurare la carrucola! Quelle eseguiscono! Con forti legami vengono ridi assieme le scale! Ma maestra, le scale non l'abbiamo! Facciamo finta! E vengono fatte arrivare la torre! Ma dove facciamo ad assicurarle se non l'abbiamo? Facciamo finta! Dai, andiamo avanti! Bartolomeo pone e tiene sopra la corda e sale! In un istante ebbi è nella torre! Tosto, prenda il maggiore dei quattro panciulli! Lo fa entrare in un sacco e lo attacca la carrucola! A bocca, a bocca e ci lo lascia! Mentre i mangi sulla sponda del fiume lo traggono sulla sponda spigottita ma salto! Fa, nello stesso modo in lesi, scende la duna d'una poi lisa! Quindi, ricorda della più pure gioia nel cuore, discende Bartolomeo! Rifomendo sul ponte il vero, intrepido, generoso piede! E viva! A voi mi felice! No! Bambini, vi ringraziamo! Grazie! Grazie di cuore! Lei è il nostro salvatore, il nostro eroe! Non ringraziate me il suo problema, grazie a te! Io rendo grazie a voi che avete salvato questi bambini! Se ci sono riuscito, è restato con il suo aiuto! E con il vostro cuore! Nessuno qui ha avuto il coraggio di affrontare il pericolo del fiume! Nemmeno io che sono il padre di questi bambini! Bene, è arrivato se vedrà quasi loro! È un merito più grande per il mio! Ma c'è lo che trovano lì! E' fatta piena la sua gana! Vedrà la persona! L'hanno che dà! Senti, che è l'ora! Senti, che è l'ora! L'ha venso! L'ha venso! L'ha venso in mezzo l'antese! Ma balanza, resta su! Ti dico che l'ha venso! E se la volve gli è il suo, che la venga su! Tanto le donne gli è salve! E fa l'esso suo, che se fosse parco gli altri! Noi l'abbiamo aiutato! Se non avessimo tirato le corde e portato i sacchi dall'altra parte! Sì, ma intanto, poi che è l'azzo l'ora, resta l'u! Corrisce le cascate le due le coparze! L'ha venso! Ve dico che l'ha venso! Ah, se la deve niente soffare la testa! Così me la stai tranquillita! Che va!